Grazie ad un fondo ministeriale di poco più di un milione di euro, il Comune di Chieti avverrà un bando che consentirà ad utenze pubbliche e private di avere agevolazioni sull'Atari. Un provvedimento che, come dice il Sindaco, conferma la vicinanza a quella cittadinanza colpita maggiormente dalla pandemia. Capisco le proteste e molte volte anche il dispiacere di tanti cittadini quando si vedono ristrette la propria autonomia e anche le proprie finanze da provvedimenti che il Comune deve prendere, ma capiranno sicuramente che non sono provvedimenti fatti contro di loro e quasi per un senso di accanimento, ma solo e unicamente perché certe scelte sono obbligate. Le fasce in questione avranno dei criteri per accedere a queste agevolazioni. Per le domestiche è importante non avere un ISEE superiore a 10.000 euro, mentre per le attività con partita IVA si fa riferimento al calo di fatturato di almeno il 27% nel periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto all'anno precedente. Questo proprio per accogliere soprattutto le richieste delle associazioni di categoria che ci hanno chiesto proprio di scendere, di abbassare questo limite in modo da coinvolgere la popolazione il più possibile, è stato fatto, quindi veramente con sacrificio da parte dell'amministrazione, quindi cercando di accontentare il più possibile tutte le fasce. Le domande potranno essere presentate dal primo all'11 ottobre. Facciamo un appello alla cittadinanza a seguire tutto ciò che è scritto nel bando, a che possano partecipare ed avere quindi le agevolazioni. Il tempo a disposizione è di 10 giorni, ci sono anche i CAF disponibili a sostenere, a dare una mano nell'espletamento di quelle che sono le domande, quindi ai nostri concittadini diciamo di seguire alla lettera ciò che è scritto nel bando per appunto accedere alle agevolazioni.